Il World Judo Tour torna in Kazakistan, nella capitale Astana, per la prima volta da quando ha ospitato i campionati del mondo. Un evento dell'IJF in Kazakistan ha fatto il pieno di appassionati tifosi. La cerimonia di apertura è stata affidata a Serik Zuman Garin, primo ministro della Repubblica del Kazakistan, insieme a Vlad Marinescu, direttore generale dell'IJF e al presidente della Federazione di Judo della Kazakistan, Kwaeshbek Yesheyev. Per la categoria meno 48 kg, l'astro nascente italiano Assunta Scutto ha vinto il suo secondo oro del grande slam con una spettacolare tecnica di tumbling. Saken Musaibekov, vicepresidente della Federazione Kazaka di Judo, ha consegnato le medaglie. La folla si è scatenata di fronte ai combattimenti della categoria meno 60 kg. Quando Magzan Shamshadin è entrato nell'arena, il pubblico ha acclamato il francese Revol che ha dato al Kazakistan il primo campione del torneo. Yerbol Mirzabostinov, presidente del Comitato per lo Sport e la Cultura Fisica della Repubblica del Kazakistan, ha premiato gli atleti. Grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto, siamo diventati campioni insieme e questa non sarà l'ultima volta. Doppiata azzura meno 52 per Odetta Giuffrida, secondo oro nel torneo e premiazione da parte del direttore sportivo della Federazione Internazionale di Judo, Vladimir Barta. Le persone qui sono davvero speciali, ho sentito tutti molto vicini, tutti i bambini gridavano ode ode e ho pensato wow, questo è per me davvero. E poi ero davvero felice, oggi è stato davvero speciale. A meno 66 kg un attacco all'ultimo respiro ha permesso allo spagnolo David Garcia Torne di vincere il suo secondo titolo WJT. Andrei Kriukov, segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale del Kazakistan, ha consegnato le medaglie. E' rivincita a meno 57 della finale olimpica di Tokyo con il colpo d'anca che valso alla francese Sara Leonie Seska la sua prima medaglia d'oro nel World Judo Tour, consegnata dal direttore degli arbitri della Federazione Internazionale Florin Daniela Skao. Un primo giorno scoppiettante ad Astana, aspettiamoci quindi grandi cose per un weekend ricco di azione. Grazie a tutti.